I problemi legati all'autismo e ragazzi affetti da questa patologia sono sempre più di grande attualità. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, sancita dall'Assemblea Generale dell'ONU che si svolgerà domani 2 aprile, anche sul territorio di Nebrodi sono numerose le iniziative ed eventi dedicati. A Naso si è tenuto un convegno che ha visto protagonisti, professori, psicologi e tutti gli attori principali coinvolti nelle attività di assistenza a ragazzi autistici. Proprio nel comune di Naso da qualche anno opera il centro Novacita, nato per accogliere i ragazzi autistici dell'Interland già dalla tenera età. Un centro all'avanguardia, gestito dall'Associazione Sorge il Sole, dedita all'assistenza, alla cura e all'inserimento dei ragazzi nella società. Se noi vogliamo avere risultati apprezzabili, queste ragazze vanno seguite in tutta la loro personalità. Bisogna vedere i contesti sociali in cui vivono, intervenire precocemente, sistematicamente con metodi scientifici. Solo così si può avere la possibilità di farne degli uomini, delle persone adulte, capaci di adeguarsi alla società. Un centro diurno non è sufficiente per accompagnare i ragazzi nella loro crescita, abbandonati spesso al loro destino dopo la formazione scolastica. Ma il centro Novacita aiuta i ragazzi autistici a scoprire la propria natura creativa attraverso le numerose attività proposte dal centro. Noi facciamo riabilitazione sistematica per i piccoli, facciamo avviamento al lavoro per i ragazzi adulti, abbiamo tanti laboratori che cerchiamo avanti, giardinaggio, cucina, ceramica, perché queste persone hanno bisogno di sentirsi utili. Noi sfruttiamo le capacità immense che possiedono e queste ragazze sono capaci di interrirsi in un contesto sociale. Grazie a tutti.